Le azioni Netflix sono volate a rialzo dopo che l'ultima trimestrale ha battuto le aspettative degli analisti. 2.41 milioni in più di abbonati, un risultato molto più alto rispetto al milione di abbonati in più che l'azienda si aspettava nelle proiezioni dello scorso trimestre, e 3.10 dollari di utile per azione contro i 2.13 dollari che invece si aspettavano gli analisti. Anche il fatturato è andato bene, 7,93 miliardi di dollari contro i 7,83 miliardi che invece si aspettavano gli analisti. Dopo un primo trimestre impegnativo, riteniamo di essere sulla buona strada per accelerare la crescita, ha dichiarato un portavoce dell'azienda. Alla luce di questi risultati, le azioni Netflix sono da comprare? Le trimestrali di Netflix sì, sono andate bene, ma nonostante questo il titolo si trova a perdere oltre il 50% dai massimi storici. Come mai questo risultato per un'azienda che ha letteralmente rivoluzionato il mondo dell'intrattenimento? Dopo l'incredibile crescita vista nel periodo della pandemia, risultato derivante dall'ottimo lavoro di sviluppo fatto dall'azienda di streaming più conosciuta al mondo, e probabilmente l'unica azienda che si è fatta davvero trovare pronta durante il periodo della pandemia, nuovi competitor come Amazon Prime, Apple TV, Disney+. A proposito, su Disney abbiamo fatto un contenuto specifico e ci siamo anche andati belli pesanti, quindi vi lascio il link in descrizione se volete vedere il video su Disney. Stanno rendendo molto competitivo il settore dello streaming. Anche nella trimestrale si parla di competitor. Secondo Netflix, i suoi concorrenti faranno molta fatica a costruire un business profittevole nel settore dello streaming. Anche se, ammette la società, questi nuovi competitor contribuiranno a diluire l'offerta al pubblico, rendendo sempre più difficile il lavoro di Netflix. Un'altra ragione del forte calo è la guerra che Netflix ha intrapreso contro la condivisione delle password. In poche parole, sempre più persone condividono tra amici e parenti le password di Netflix, cosa che sta creando letteralmente gravissimi problemi all'azienda. Per contrastare gli effetti negativi del fenomeno dello scambio delle password, Netflix ha risposto aumentando il prezzo dell'abbonamento. Un altro metodo per contrastare il calo degli abbonati è quello di introdurre una versione di Netflix con pubblicità. Hastings ha sempre dichiarato di essere contro l'inserimento di pubblicità in Netflix, ma proprio di recente l'azienda ha annunciato un piano economico a 5,49$ che prevede appunto pubblicità. Una mossa molto coraggiosa e anche pericolosa che prende spunto però da un modello di business che già negli Stati Uniti funziona da tempo con Hulu, che è sempre una piattaforma di contenuti in streaming, ora di proprietà di Disney, che prevede una versione premium e una con pubblicità. Il rischio è che troppi annunci potrebbero frustrare gli spettatori, mentre troppi pochi annunci potrebbero convincere gli abbonati a passare dagli abbonamenti costosi a quelli più cheap, con un conseguente calo del fatturato. Gli analisti pensano che entro il 2024 Netflix potrebbe incassare circa 8,5 miliardi dalle pubblicità, 2 miliardi in più rispetto alla versione Netflix senza la pubblicità. E sempre secondo gli analisti il numero di abbonati potrebbe aumentare di 10 milioni. Dal punto di vista finanziario Netflix è messa bene. Con uno Zscore di 3,61 non è assolutamente a rischio fallimento, ma nonostante questo il titolo mi preoccupa comunque. Facendo i calcoli del fair value, quello che possiamo chiamare anche il prezzo corretto che dovrebbe avere il titolo in borsa, ho calcolato che l'attuale prezzo di borsa sarebbe giustificato qualora l'azienda continuasse a crescere del 25% all'anno nei prossimi anni. Un risultato improbabile visto che la crescita del fatturato è già in calo e la concorrenza di Apple, Amazon e Disney si fa davvero sentire ogni giorno di più. Dal punto di vista tecnico il titolo non mi piace proprio. Le azioni hanno preso una legnata incredibile che da 700 dollari per azione ha portato il titolo agli attuali 275. E una forte resistenza nei pressi di 280-300 dollari per azione mi fa pensare che il titolo non abbia ancora finito di scendere. Il target price di questo movimento a ribasso è, secondo i miei calcoli, 130 dollari per azione, livello che si trova a ridosso di un importante supporto risalente addirittura al 2016. Un'altra cosa interessante da notare è che andando a vedere le transazioni dei manager dell'azienda si vede come tanti manager abbiano venduto le proprie azioni Netflix sui massimi storici, durante il ribasso solamente sporadicamente il CEO dell'azienda ha comprato dei pacchetti di titoli, ma che nessuno invece, compreso il fondatore e CEO, ha mai comprato le azioni Netflix nell'ultimo periodo quando il titolo si è assestato sui livelli attuali. Questo è un pessimo segno che mi fa pensare, appunto, che forse anche il management pensa che Netflix possa ancora scendere. Personalmente, dopo aver shortato Disney, vi lascio in descrizione il link dove parlo di questa operazione, ho deciso di shortare anche Netflix, soprattutto dopo che i buoni risultati dell'ultimo trimestre hanno fatto schizzare il titolo verso l'alto. Scommettere al ribasso su un titolo significa guadagnare qualora le azioni di questa azienda effettivamente scendessero in borsa. Quest'operazione è possibile farla con la piattaforma di Kimura Trading, la stessa piattaforma che usiamo noi trader di investire.biz. Vi lascio il link in descrizione qualora vogliate provare una versione demo gratuita oppure direttamente aprire il conto. Se volete replicare questa scommessa al ribasso su Netflix ma non sapete come fare, scrivete una mail a info-investire.biz inserendo i vostri dati e anche il numero di telefono così che il nostro staff possa contattarvi e darvi tutto il supporto di cui avete bisogno. Vi invito anche ad iscrivervi al webinar del lunedì, un appuntamento che teniamo tutti i lunedì alle ore 18 su investire.biz. Iscrivetevi anche se non potete partecipare in live, è gratuito, ma iscrivendovi riceverete la registrazione del webinar che potrete vedere quando vorrete. Anche di questo vi lascio il link in descrizione. Noi ci vediamo al prossimo video.